rossa desiderio come la carmen può lasciare un giudizio sulla serata era abbastanza bella la scenografia moderna originale io mi aspettavo la solita tradizionale spagnola erano belle anche costumi per la musica me ne intendo poco io ho più un gusto visivo bellissimo italiani si veramente bello ha soddisfatto le vostre aspettative si molto moderno molto contemporaneo molto bello una delle più brutte regie che io abbia visto lei la micaela è bravissima la carmen è bravissima lui ancora deve studiare molto scamiglio una cosa mediocre il coro sempre valido però purtroppo non possono continuare anche se questo è l'allievo di gran vic eccetera ha vinto a salisburgo perché la regia è veramente pietosa l'opera va da una parte non c'entra niente non ha un minimo di coerenza perché questi non ho capito cosa portano in montagna forse la droga cos'è che leggerò per capire cosa voglia lui però non è il sistema non è che facendo vedere scusate il termine quattro culi dei ballerini e delle ballerine si fa un'opera e questa per me è una cosa vergognosa poi adesso comunque come è successo l'anno scorso arriverà fuori il sindaco quello che c'è che diranno capolavoro perché macerano comunque lo aspettiamo anche domani sì 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 domani sera però domani sera sono sicuro senza essere prevenuto ok ma dante darà qualcosa di più posso dire qualcosa sull'anno? ti piaceva il show? è stato un buon show con un direttore molto originale quindi completamente diverso da quello che ho visto prima in Carmen anche in Verona l'anno scorso e anche in Amsterdam perché siamo anche in generale molto moderna stile ma personalmente mi piaceva molto quindi sei soddisfatto? sì sono soddisfatto molto soddisfatto è stata una buona esperienza qui in Italia per andare all'opera saranno qui anche domani? domani siamo a Fermo per l'agriturismo quindi restiamo una settimana qui e la seconda settimana guarda mi è piaciuta molto veramente bella mi è piaciuta molto lei la carne è stato molto interessante bellissimo siamo qua perché c'è una nostra amica avete approfittato? sì ne abbiamo approfittato è piaciuto veramente è stato molto interessante prima volta allo Sferse? sì la prima volta e pensate di tornare anche nei prossimi giorni oppure? probabilmente sì e il primo che vedo è comunque abbastanza piacevole se sulla serata? ma è positivo un'ottima scelta dal mio punto di vista sì sì ottima scelta sia i cantanti bravi la scenografia molto bella e questo riferimento al femminicidio quindi molto contemporaneo ha apprezzato il lato sociologico diciamo? sì sia il bel canto ma c'è anche questo lato sociologico che è interessantissimo che la musica va da una parte e la impostazione delle scene sono completamente all'opposto quindi non è soddisfatta? no, giustamente no l'allestimento non devono lasciare quello che è classico continuano a fare delle innovazioni noi abbiamo detto stasera che non torneremo più allo Sferi Stereo veniamo dopo da trent'anni fabuloso? una storia fantastica, una storia moderna, mi piaceva mi piaceva le tue esperienze? più molto più molto più mi piaceva? fantastico assolutamente incontro saranno qui anche qui ciò? 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 ti ha toccato la scritta sulla serata? beh, è stato molto bello mi è molto piaciuta la scenografia e anche Carmen è stato molto interessante è un bel lavoro degli attori del Maestro d'orchestra da ripetere quindi soddisfatta? soddisfatta, soddisfatta Grazie a tutti.